Ciao a tutti ragazzi sono Candy e benvenuti in questo nuovissimo video di Creative Distraction Oggi sto laggando un pochettino quindi sarà una sfida riuscire a vincere questa partita Ma noi come sapete bene ragazzi riusciremo a vincere lo stesso No in realtà non lo posso promettere Comunque avete lasciato veramente tantissimi mi piace sotto l'ultimo video quello fatto dal cellulare Quindi vi ringrazio e fatemi sapere qua sotto nei commenti se ne vorreste vedere un altro Perché ovviamente lo posso portare Semplicemente da computer è un pochetto più facile giocare perché ti devi organizzare di meno In più io ovviamente sono più abituato a utilizzare mouse e tastiera Quindi fatemi sapere qua sotto nei commenti se volete vedere un altro video da cellulare Allora io lo farò e arriviamo ben 3000 mi piace sotto questo Allora potremmo anche buttarci direttamente qua a Sunset Manor Oppure ci buttiamo nel punto dove vanno tutti Lion Park o Spring Town Ok io spero di avere fortuna con la safe perché non ho proprio voglia di camminare per tutta la mappa per raggiungere magari questo posto qua Quindi spero che si chiuda più o meno in questa zona E adesso dobbiamo ovviamente trovare delle armi super potenti Io direi che il set migliore è AK o Scar che vabbè uno delle due comunque Poi un bel fucile a pompa Un plasma leggendario E poi anche un lanciarazzi I lanciarazzi sono potentissimi su questo gioco Questa città ha veramente poche costruzioni Però poche ma buone E soprattutto ci va parecchia gente Quindi sicuramente riuscirò a trovare qualcuno da ammazzare per iniziare bene Ci sarà una bella cesta Qua ci abbiamo un fucile a pompa Mica male Lo mettiamo nel due perché io sono abituato a giocare col fucile a pompa nel due Ok delle bende le prendo molto molto volentieri Poi cos'altro Una pistola Va bene La prendo tanto perché non ho nulla per combattere a distanza C'abbiamo il fucile a pompa Che ovviamente a distanza non fa nulla Guardate quello Dai gli sto sparando addosso Ok l'ho preso un paio di volte Molto bene Madonna queste pistole ragazzi Le pistole con il laser Ma che stiamo dicendo Aspettate Dai che l'ho preso Sì 85 Mamma mia Ma che sono queste pistole Non le avevo mai utilizzate Non sapevo avessero il laser Che figata Queste sono veramente forti allora Vediamo cosa aveva questo Anche se penso che non avesse nulla Perché la partita è appena iniziata Comunque noi Diamo pur sempre un'occhiata Aveva delle scatole Ah tra l'altro Mi avete detto in tantissimi Che No aspettate Molto meglio il fucile a pompa Dicevo Mi avete detto in tantissimi Che le scatole E le magic box Danno la bellezza di 25 di scudo Quindi se mi dovesse mancare poco scudo E' meglio utilizzarla la magic box Perché nell'ultimo video ho perso Mi mancavano tipo 30 40 di scudo E non l'ho utilizzata Perché ero convinto Di sprecarle in quel modo Cosa abbiamo trovato Un FAMAS E uno scudo Vabbè il FAMAS Me lo prendo Sì ma me lo prendo tanto per ragazzi Perché in realtà A me non piace molto il FAMAS A questo punto Prima riesco di utilizzare Di gran lunga Queste pistoline Cioè avete visto Quanto sono potenti Allora prendiamoci Degli altri materiali Facciamo subito Il primo upgrade Molto bene Così abbiamo I materiali più potenti Se non lo sapete Perché magari vi siete persi L'ultimo video ragazzi Si possono fare gli upgrade Ai materiali Un po' come su Fortnite Che inizi con la legna Poi puoi mettere anche il mattone Eccetera eccetera In questo caso Lo fai tu Comprandoli gli upgrade Quindi passi da un materiale Un pochettino più debole A un materiale Molto più resistente Che ci metteranno Molto più tempo Per buttarlo giù C'è qualcuno C'è qualcuno che mi spara là Lo vedo Lo vedo Lo vedo Lo vedo Lo vedo Aspettate Lo devo prendere Con un bel colpo in testa Se riesco a prenderlo Ragazzi Questo gli faccio male Ve lo dico io Io questo gli faccio male Ok basta Mi ha stancato Quindi adesso costruiamo Tutto quanto per bene E aspettiamo Il momento giusto Tipo questo Ok l'ho preso Oddio gli ho fatto 85 Ok è mezzo morto È mezzo morto Sì l'abbiamo ucciso Con due colpi Ragazzi Due colpi Mi sono passati per ammazzarlo Purtroppo non abbiamo Molto scudo Beh in realtà Metà dai Metà Comunque ci possiamo accontentare Oh ecco Proprio quello che volevo io Via famas Che tanto non mi servi A niente Ci prendiamo uno scar Bello potente Ci prendiamo delle munizioni Di questo qua Cos'altro c'è qua Uuuu Ok questa è ottima Bene ragazzi Non siamo messi male Anzi Siamo messi discretamente bene Mi raccomando ragazzi Lasciate un bel mi piace E iscrivetevi al mio canale Se non siete ancora iscritti Perché magari state pensando Wow questo fa dei video Super fighi Chissà come posso fare Per non perdermene mai Neanche uno Semplice Ti iscrivi al canale Cliccando il tasto rosso Iscriviti E ti arriveranno le notifiche Di tutti i video Che carico ogni giorno Ok scudo Abbiamo un altro edificio Da esplorare Nel frattempo ci troviamo All'interno della safe Più o meno ecco Direi di fare un bel upgrade Almeno almeno Al livello 4 Perché adesso siamo a livello 2 E quindi le nostre costruzioni Sono abbastanza deboli Adesso facciamo subito Intanto il livello 3 Molto bene Prendiamo degli altri materiali Lui ci darà un materiale In grado di poter costruire Qualcosa per scappare Come per esempio Un razzo Oppure un trampolino Ma no il trampolino In realtà ce l'abbiamo già E qua abbiamo trovato Anche uno scudo Perfetto Adesso siamo full scudo Qua c'è un SMG Che non mi serve Anzi nel 3 Mettiamoci questo Ok Oddio Vediamo se lo prendo Da questa distanza Raga È difficile È difficile calcolare Il colpo perfetto Adesso si che lo prendo E gli stiamo facendo Anche un po' di male Ok È morto È morto C'ha uno di vita Uno di vita E muore Sì 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 L'ultimo colpo Perfetto Ammazzato Ottimo Mi ha fatto sprecare Tantissimi proiettili Perché era troppo distante E non lo riusciva a prendere Però era anche molto molto confuso Non capiva Da dove Da dove gli sparavano Da che lato gli stessi sparando Ok Ci andiamo a prendere subito Tutto quello che c'aveva lui Sperando che ci avesse Tanti altri proiettili per me Perché li ho quasi finiti Ok C'avevo uno scudo C'aveva un Pollo Perché Scusa Perché c'è un pollo Cosa serve questo Ah Te lo mangi quando hai pochi HP No Che figata Allora Cosa c'abbiamo qua Una cesta e uno scar Ripeto ragazzi A me lo scar non piace molto E quindi non lo prenderò Però se non altro Dovrebbe contenere Sì sì infatti C'ha dei proiettili Perfetto Ok proiettili tutti miei Ho trovato un'altra capa Un altro scudo Ok la capa io ce l'ho migliore Perché ce l'ho viola E ci prendiamo anche uno di questi Ma è tipo Non lo so Non capisco Sono dei drop Però Mi è sembrato tipo di vedere un lancerazzi Secondo me non ne vale la pena Comunque andare a controllare Potrebbe essere una perdita di tempo Quindi restiamo qua per un pochetto Quella capa e quello scar Messi là in bella vista Però mica mi piacciono eh Potrebbe venire qualcuno a prenderli Servono 600 materiali Per far arrivare le nostre costruzioni A livello 4 In modo che saranno più resistenti Quindi quasi quasi io lo faccio Però non adesso Perché prima voglio farmare un pochettino Oddio Te pareva che non appena mi farmavo due secondi Ci doveva essere qualcuno pronto a spararmi Lo vedo eh Vediamo se lo riesco a prendere un paio di volte L'ho preso Ok 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 Calmi 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 Allora utilizziamo subito questo Visto che comunque abbiamo perso un po' di vita Io non voglio per niente rischiare Ora siamo full E adesso guardate Risparo con questo qua Oh gli ho tolto solo 11 Ah resiste a questo allora È forte Ok l'abbiamo ucciso Come non detto L'abbiamo ammazzato lo stesso Io sono full vita Perfetto Mamma mia ragazzi Che figata Ma la cosa più importante di tutte È che non ho consumato molti proiettili per la cappa Ne abbiamo ancora 60 Ok saliamo su E vediamo un pochettino cosa ci aveva da darmi Un altro polletto per la vita Ok Tendenzialmente non aveva niente di troppo importante Guarda Oddio ragazzi L'aerdrop è proprio vicinissimo E allora quasi quasi lo vado a prendere Così trovo sicuramente qualcuno da poter uccidere Perché ci andrà qualcun altro l'aerdrop no? Magari qualcuno di disperato Che ha bisogno di un'arma Che non ha niente Ma scusa dove è caduto? Non doveva cadere qua? Oddio mi sparano Non so chi Però mi sparano Ah eccolo lo vedo Sta in acqua Aspettate Preso due volte Molto bene Adesso subicciamo quest'arma E gli iniziamo a sparare con la pistolina Oddio ragazzi Questa pistolina è veramente troppo Troppo forte Allora non voglio perdere tempo Per prendere i suoi di drop Perché non credo ce ne sia bisogno sinceramente Qua ci sta un altro polletto Posso utilizzare subito uno scudo Quindi mi barrico per bene E utilizziamo uno scudino Ok adesso direi che è arrivato Oddio Madonna non l'avevo mica visto questo io Dove sta? Dai che ti ammazzo col fucile a pompa Non lo vedo Oddio Che fine che hanno fatto Si stava camperando Avete visto che aveva paura Era tutto là camperato Dai ma cosa devi fare? Ok restano ancora sei persone in vita Io vado subito in safe Perché come vi dicevo Voglio vincere a tutti i costi questa partita Ma è la prima volta che vedo sto coso Guardate che figata Questo è l'air drop No ok come vi dicevo ragazzi Se l'ho visto io Lo vedrà anche altra gente Quindi cercheranno di venire a uccidermi Ma non ha capito questo qua Che si trova contro di me Ok l'abbiamo ammazzato Vediamo che cosa troviamo all'interno di questo airdrop Dai 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 Dammi qualcosa di buono Cosa c'era? Un polletto mi ha dato? Ah vabbè Niente di che sinceramente Ok pensavo di trovare qualcosa di migliore Vabbè comunque non importa Abbiamo fatto anche un'altra uccisione Perché come vi dicevo La gente ora verrà attirata da queste cose Da queste luci Da questi bagliori Quattro persone rimaste ragazzi Noi abbiamo fatto la bellezza di sette uccisioni Io ne voglio fare ancora di più Ok comunque dovrebbero essere tutti quanti più o meno qua adesso Perché la safe si sta chiudendo Però io non ne vedo neanche mezzo Là c'è un altro drop C'entra qualcuno? Sicuramente raga Cosa c'è di bello? Uh che cos'è questo? Ok questa è un'arma nuova Questa non l'ho mai vista Oh mamma mia Ma spara tipo 100 milioni di proiettili Oh queste armi non le avevo mai viste ragazzi Figo È la prima volta che le trovo Là c'è un altro drop Oddio Ok Cioè io stavo guardando un attimino il drop E tu mi massacri così? Ok non so chi fosse raga però mi ha fatto veramente tantissimo male Mi mangio quasi quasi questo polletto Sperando che adesso non mi pusci contro Devo tornare full vita raga e devo utilizzare anche lo scudo Ok questo è forte, questo qua è forte Questo che mi ha attaccato è forte C'abbiamo tre scudi da utilizzare Dobbiamo stare molto attenti Ok non ho più scudi È arrivato il momento di combatterlo Se soltanto lo vedessi No ma raga ma questo è troppo forte Sarai anche forte ma io sono più forte capito? E qua ce n'è un altro guardate Boom Preso con un colpo e adesso sei morto Sì abbiamo vinto questa partita Mamma mia abbiamo anche vinto con stile Avete visto che figata? Mi raccomando ragazzi lasciate un bel mi piace Se vi siete divertiti Se vi è piaciuto questo video di creative destruction Dal vostro Candy è tutto Noi ci vediamo sicuramente in un prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.